Musica Chiude la stagione con Christian De Sica in Cinecittà il Teatro Lendi, un musical in grande stile con orchestra, ballerini, scale illuminate, piume di struzzo, paillette e tanto amore per il cinema che rende omaggio agli indimenticabili studi di Cinecittà aprendo agli spettatori il suo amarcord ricco di materiali che vengono dalla famiglia in particolare dal padre Vittorio e dall'incontro con altri indimenticabili divi che hanno fatto la storia del cinema nello show si incontrano Anna Magnani, Sofia Loren, Gina, Lollo Brigida, Marcello Mastroianni, Anthony Quinn ma anche Audrey Hepburn, Cary Grant e Gregory Peck la provincia punta sulla cultura e vince dunque il direttore del Teatro Lendi, Francesco Scarano da due anni lavora una stagione dal taglio sempre più nazionale e se lo scorso anno in palcoscenico degli artisti in cartellone c'erano Massimo Ranieri e Vincenzo Salemme quest'anno Salemme è tornato e Cristian De Sica ha portato il suo Cinecittà ma la scommessa 2014-2015 era tanto più complicata perché Scarano ha puntato anche sulle repliche ed ha anche in serbo tante sorprese bilancio positivissimo per questa stagione teatrale che si è appena conclusa con lo spettacolo di Cristian De Sica infatti siamo già pronti e stiamo lavorando per il prossimo cartellone che si profila a essere importante come questo trascorso e tante sorprese tra le quali la nascita di una scuola di recitazione creava come maestro Giacomo Rizzo il nostro lavoro sulla cultura continua infatti vogliamo far sì che questo teatro diventi sempre più un polo di attrazione sia per i giovani che per i meno giovani e appunto questa scuola di recitazione sarà aperta a tutti grazie 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 grazie